Volevo solo dire, visto che volevo spendere due parole per ieri che è stato l'anniversario della morte di Gigi Meroni, come lo chiamate voi, Farfalla Granata, che è stato un talento insuperabile del Torino. Io non l'ho visto mai giocare, ma mi hanno raccontato tutti che era un George Best italiano, era giovane, era geniale, era anche artista e purtroppo è morto come gli eroi da giovane e bello e così è rimasto nei ricordi dei tifosi. Penso che legame, diciamo, essenze del Torino e nel legame del suo passato, sua storia e i suoi miti. Noi dobbiamo prendere la forza dal lavoro duro presente, ma anche dal ricordo del passato da cercare di onorare e provando di essere all'altezza questa gente. Sicuramente ho qualche buon attaccante in avanti, spero che imiteranno, se riescono a imitare qualche sua giocata, visto che lui da là sopra ci guarderà, che lo faremo anche un po' divertire, perché mi ricordo che andavo con la gallina in giro e così. Non l'ho mai visto giocare, ma mi sarebbe piaciuto conoscerlo. Però comunque volevo fare anche un omaggio a lui, visto che è stato un giocatore che, visto quello che si diceva a tutto di tutto, sicuramente mi sarebbe piaciuto conoscerlo o giocare insieme o magari allenarlo. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.